Fermi lì, è quel momento dell'anno amici. L'Amazon Prime Day 2024 è finalmente arrivato e quest'anno le offerte sono più incredibili che mai. Ma con migliaia di sconti disponibili, come possiamo essere sicuri di non perdere le occasioni migliori? Ecco qui la mia personale selezione di alcune offerte imperdibili che non potete lasciarvi scappare. Tutte le altre le trovate nei link in descrizione. Prima di tuffarci nelle offerte irresistibili c'è una piccola ma importantissima condizione da soddisfare. Vuoi sapere qual è il segreto per accedere a questi sconti pazzeschi? È semplice, ti serve un account Amazon Prime. Ma non preoccuparti, se non sei ancora iscritto potrai attivarlo con il link qui sotto per poter sfruttare la prova gratuita di 30 giorni. Potete anche disdirlo prima del rinnovo, ma se volete sfruttare queste offerte è obbligatorio averlo. Iniziamo con un piccolo capolavoro nel mondo dell'audio, le cuffie Bose QuietComfort. Immagina di poterti isolare completamente dal mondo esterno con un semplice click. Grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore di Bose può immergerti nel suono come mai prima d'ora. Che tu sia in aereo, in un ufficio rumoroso o semplicemente a casa, queste cuffie ti offrono un'esperienza di ascolto ineguagliabile. Ma non è tutto, la qualità del suono è superba con bassi profondi, medi chiari ed alti molto nitidi. Inoltre sono incredibilmente comode da indossare grazie ai cuscinetti morbidi e al design leggero. La batteria dura fino a 24 ore, quindi puoi ascoltare la tua musica preferita tutto il giorno senza preoccuparti della ricarica. E per il Prime Day queste cuffie di alta gamma sono disponibili con uno sconto imperdibile. Passano infatti da un prezzo consigliato di 399 euro a 209 euro in 95. Rimaniamo in tema cuffie e passiamo ora alle iconiche Beats Solo 4. Se cerchi un suono potente e lo stile inconfondibile di Beats, queste cuffie sono fatte apposta per te. Con il loro design elegante e moderno, le Solo 4 non passano mai inosservate. La qualità del suono che caratterizza il marchio Beats ti permette di goderti ogni nota e ogni battuta con una chiarezza e una profondità senza pari. Le Beats Solo 4 sono perfettamente compatibili con iOS e Android ed offrono una lunga durata della batteria fino a 40 ore con una singola ricarica. Inoltre il microfono integrato e i controlli on-ear rendono facile gestire le chiamate e la musica senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Durante il Prime Day queste cuffie di alta qualità sono disponibili ad un prezzo davvero speciale. Passano da 229 euro a 159,99 euro. È quindi il momento perfetto per portare il tuo ascolto musicale a un altro livello. Non hai mai troppa potenza, soprattutto quando sei in movimento. L'alimentatore Ugreen Nexod da 100 watt è il compagno ideale per chi ha bisogno di caricare più dispositivi contemporaneamente. Possiede 3 porte USB di tipo C e una porta USB di tipo A ed è capace di erogare fino a 100 watt. Con questo puoi caricare il tuo laptop, smartphone, tablet ed altri gadget tutti in una volta. Questo alimentatore è compatto e leggero, perfetto da portare nella borsa o nello zaino rendendolo ideale per chi viaggia o lavora da remoto. La tecnologia di ricarica rapida garantisce che i tuoi dispositivi siano pronti all'uso in pochissimo tempo. Inoltre il design robusto e la protezione contro sovraccarichi, surriscaldamenti e cortocircuiti assicurano che i tuoi dispositivi siano sempre al sicuro. E per il Prime Day lo Ugreen Nexod 100 watt passa da un prezzo consigliato di 70,99 a 38,99 euro. Un prezzo davvero imbattibile, non lasciartelo scappare. Ed ora passiamo a tutti gli amanti dell'avventura e della creatività. Per loro i prodotti Insta360 saranno il massimo. Che tu voglia catturare un video a 360 gradi, fare riprese spettacolari o creare contenuti unici, Insta360 offre una gamma di dispositivi che trasformano il modo in cui riprendi il mondo. Tra i prodotti in offerta troviamo la Insta360 X3, una videocamera a 360 gradi che ti permette di catturare ogni angolo delle tue avventure con una qualità straordinaria e che passa da un prezzo base di 539 euro a 399 euro. Oppure la Insta360 Go 3, la piccola ma potente action cam che puoi portare ovunque. Con funzioni avanzate come la stabilizzazione del video e la possibilità di editare i tuoi contenuti direttamente dall'app, Insta360 Go 3 ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per creare video mozzafiato. Il modello con memoria da 64 GB passa da un prezzo di 449 euro a 359 euro. E durante il periodo del Prime Day puoi approfittare di altri sconti incredibili su tantissimi fantastici prodotti Insta360 che trovate qui in sovraimpressione. Non perdere l'occasione di portare le tue riprese a un livello superiore. Trovate tutti i link per l'acquisto dei prodotti Insta360 qui sotto in descrizione. Ed ora rendi la tua casa ancora più smart con il nuovo Amazon Echo Spot. Questo dispositivo compatto combina tutte le funzionalità di un altoparlante intelligente con un display touchscreen, aprendoci ad un mondo di possibilità. Puoi chiedere ad Alexa di mostrarti le previsioni del tempo, riprodurre video, fare videochiamate e controllare i dispositivi smart della tua casa con un semplice comando vocale. Il design elegante e moderno del nuovo Echo Spot 2024 si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, dalla cucina al soggiorno, dalla camera da letto all'ufficio. E grazie al suo display touch è ancora più facile interagire con Alexa e accedere a tutte le tue informazioni e contenuti preferiti. Durante il Prime Day puoi avere questo fantastico dispositivo ad un prezzo fenomenale. Passa da 94,99€ a 54,99€. Quale migliore occasione di portare un po' di magia smart nella tua casa? Rimaniamo sempre in tema di domotica per la tua casa con il Philips Hue Starter Kit, il modo più semplice per iniziare a trasformare il tuo spazio abitativo con luci smart. Grazie al kit base avrai tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare. Lampadine intelligenti che puoi controllare tramite app, voce o automazioni e il bridge che connette tutto insieme. Il Philips Hue Starter Kit ti permette di cambiare temperatura colore, regolare l'intensità della luce e creare l'atmosfera perfetta per ogni occasione. Inoltre puoi impostare timer, sveglie e scenari per rendere la tua vita quotidiana ancora più comoda e divertente. E il Prime Day è il momento giusto per iniziare la tua avventura nel mondo dell'illuminazione smart con un super sconto. Lo Starter Kit passa infatti da 153€ a 69,99€. Se sei un utente Mac, la tastiera Logitech MX Keys Mini è un must have nel tuo arsenale tecnologico. Questa tastiera compatta è progettata specificamente per gli utenti Mac, con un layout ottimizzato per macOS, tasti retroilluminati e un design elegante che si integra perfettamente con il tuo setup Apple. La Logitech MX Keys Mini offre un'esperienza di digitazione eccezionale grazie ai tasti con cavi che si adattano alla forma delle tue dita, garantendo precisione e comfort. Inoltre, grazie alla connettività Bluetooth, puoi collegarla facilmente a più dispositivi e passare dall'uno all'altro con un semplice tasto. Perfetta per chi lavora in mobilità o vuole un setup elegante e funzionale e durante questi Prime Day la possiamo trovare ad un ottimo prezzo. Infatti, passa da 118€ a 85,49€. Non perdere l'occasione di migliorare la tua produttività. Parliamo di prodotti Apple. Le cuffie AirPods 3 sono la soluzione ideale per un audio di qualità superiore ovunque tu vada. Con un design migliorato che si adatta perfettamente alle tue orecchie, questi auricolari offrono un suono spaziale che ti avvolge completamente. Perfette per ascoltare musica, fare chiamate ed utilizzare Siri, le AirPods 3 rendono ogni esperienza audio davvero unica. Inoltre, sono resistenti a spruzzi d'acqua e al sudore, quindi potrai utilizzarli anche durante gli allenamenti. La connessione è rapida e stabilissima grazie al chip integrato H1 che garantisce una qualità audio davvero eccellente per le chiamate. E durante questo Prime Day li troviamo in offerta speciale. Infatti, passano da un prezzo di listino di 199€ a 151€. Potenza e portabilità si incontrano nel MacBook Air M2, il portatile perfetto per chi cerca prestazioni eccezionali in un design un ultra sottile. Con il chip M2 di Apple, questo MacBook offre un incremento significativo nelle prestazioni, rendendolo ideale per qualsiasi attività, dal lavoro creativo alla gestione delle tue app quotidiane. Il suo display ti offre una qualità visiva straordinaria, con colori vividi e dettagli nitidi. La sua batteria dura fino a 18 ore, permettendoti di lavorare o giocare tutto il giorno senza preoccuparti della ricarica. Il design è leggero e resistente, perfetto da portare ovunque. Direi di approfittare del Prime Day per avere questa meraviglia tecnologica ad un prezzo davvero scontato, che passa da 1249€ a 949€. È forse il momento perfetto per aggiornare il tuo laptop. E non è solo Apple quello che luccica. Il Samsung S24 Ultra è il massimo dell'innovazione tra i dispositivi Android. Questo smartphone top di gamma di Samsung offre un display Dynamic AMOLED 2x che ci lascia davvero senza fiato, con colori brillanti e un'alta risoluzione che rende ogni immagine e video incredibilmente dettagliato. Il comparto fotografico è uno dei migliori sul mercato, con una fotocamera principale da 108 megapixel, un ultra grand'angolo e un teleobiettivo con zoom ottico 10x. Le prestazioni sono garantite dal potente processore e dalla batteria di lunga durata, che ti permettono di utilizzare il telefono tutto il giorno senza interruzioni. E per il Prime Day puoi averlo con uno sconto che non puoi lasciarti sfuggire. Se cerchi il meglio del meglio, il Samsung S24 Ultra è la scelta giusta. Se invece state cercando qualcosa di nuovo e diverso, lo smartphone CMF Phone One è perfetto per voi. Questo dispositivo innovativo combina un design unico e funzionalità all'avanguardia per offrire un'esperienza utente senza precedenti, proprio nello stile di Nothing. Il display offre colori vividi e neri profondi, mentre la sua fotocamera cattura immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione. Il CMF Phone One è dotato di un buon processore e di una batteria a lunga durata, garantendo prestazioni fluide e senza interruzioni. E poi dovreste provare l'esperienza unica di Nothing OS, che offre tutto il meglio dell'innovazione Android e l'integrazione con ChatGPT senza opzioni inutili. E solamente per questo Prime Day lo trovate ad un prezzo di 199,99€. Non lasciatevi quindi sfuggire l'occasione di provare qualcosa di nuovo. Ed ora torniamo sui prodotti di Amazon con uno dei più venduti, la Fire TV Stick. Grazie a questo piccolo dispositivo potete trasformare la vostra vecchia TV in una Smart TV in maniera semplice e conveniente. Con questa piccola ma potente chiavetta potete guardare Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e molto altro, tutto con un semplice click. La Fire TV Stick è facile da installare, basta collegarla alla porta HDMI della tua TV o del tuo monitor e connetterla alla rete WiFi. Puoi controllare tutto con il telecomando vocale di Alexa, chiedendo semplicemente di cercare i tuoi film o serie TV preferite, regolare il volume, controllare la Smart Home e molto altro ancora. Inoltre abbiamo a disposizione più modelli che ci offrono una qualità video fino al 4K supportando l'audio Dolby Atmos per vivere un'esperienza visiva e sonora davvero eccezionale. Ed in questi giorni potete trovarla ad un prezzo incredibile a partire da 24,99€ per la versione Full HD. E rimanendo sempre in tema casa, non posso non consigliarvi uno dei robot aspirapolvere migliori di sempre, l'Ecovax D-Bot T30. Questo dispositivo di pulizia intelligente è dotato di una tecnologia avanzata di mappatura e navigazione che gli permette di pulire in modo efficiente ogni angolo della tua casa. Con la sua potente aspirazione e la funzione di lavaggio, il D-Bot T30 non solo aspira polvere sporco ma pulisce anche i pavimenti lasciandoli davvero impeccabili. Il controllo tramite applicazione ti consente di programmare le pulizie, monitorare il progresso in tempo reale e personalizzare la modalità di pulizia. Puoi anche controllarlo tramite la tua voce grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant. Il suo design gli permette di passare facilmente sotto i mobili e la batteria di lunga durata garantisce una pulizia completa anche in case di grandi dimensioni. E durante il Prime Day lo troviamo ad un prezzo davvero incredibile. Infatti possiamo trovarlo in offerta ad un prezzo di 649€. Credo che non dobbiate perdere l'occasione di avere una casa sempre pulita senza alcuno sforzo. Bene, spero che questo video sulle migliori offerte del Prime Day 2024 sia stato interessante. Lasciate pure se volete un commento qui sotto con il vostro prodotto preferito che avete trovato in offerta. Come sempre, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel like ed iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche per non perdervi altri contenuti come questo. Noi ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube.